Allora, datemi un po', datemi un po' di palloncini, eccoci che iniziano ad entrare Allora ragazzi, non sono da solo questa sera ma siamo una ventina di persone a casa mia E c'è anche Farida, deve essere una cosa intima, ma invece si è trasformata praticamente in una festa Ovviamente per fare cosa, per vedere la prima puntata di Drag Race, c'è anche Luquisha Lubamba ragazzi Eccola, intanto noi salutiamo tutte quelle che ci sono entrate in diretta, è la nostra prima diretta insieme, in realtà è la prima Certo, è la prima della vita, ce ne saranno tante altre, si spera E siamo molto emozionate, tant'è che prima si è messa a piangere, no? Esatto, come sempre, come vedrete E la frase famosa, hashtag è Ma chi ci dovrà dire? E siamo qui, siamo qui Con i palloncini, ragazzi, è proprio una festa Fate un saluto ragazzi, perché siete in diretta Siete in diretta C'è Cichita, c'è la zia Marina Lo champagne è arrivato Matteo Menicocii La pariure La pariure Vabbè siamo tanti, siamo tanti amici Riuniti qui per festeggiare questo evento Capodanno Non è Capodanno Non è Capodanno Non è Capodanno Questo evento Allora qui mi chiedono dove è la pariure, ragazzi Allora la pariure in realtà l'ho scelta 59 È 59, ragazzi Sono il 59 Quindi la pariure in l'ho scelta la vedremo dopo Intanto facciamo un brindisi A noi A noi E a tutta l'Italia Che cambierà dopo questa passata Esatto Esatto Quindi Buona visione Ci vediamo dopo per i commenti, ragazzi Come si stoppa qua Dire questa, ragazzi Amore Come si Da qui sopra C'è una X C'è una X